Patologie prostatiche, prevenzione, diagnosi e cura, fattori di un'equazione che spesso viene ignorata dal popolo maschile, meno attento delle donne alla cura di sé e della propria salute. Forse per superficialità, per pigrizia o più semplicemente per tabù ancora presenti tra il sesso forte, la visita dall'urologo o dall'andrologo viene effettuata solo in caso di sintomi conclamati e fastidiosi. Questo l'argomento di questa settimana di Dica 33, un fenomeno, un atteggiamento più culturale che cercheremo di capire meglio grazie all'aiuto del nostro ospite in studio. Ben ritrovati ad una nuova puntata di Dica 33 come avete ascoltato dalla scheda di presentazione. Questa settimana parleremo delle varie patologie che interessano la prostata. Lo facciamo con il nostro ospite studio, ovviamente il dottor Lugomaggio, dirigente medico del reparto di urologia del Moscati, che saluto ovviamente e ringrazio. I cambi saluti a tutti. Dottore, allora, patologie della prostata ce ne sono davvero tantissime, ovviamente non potremo essere in grado di studiarle tutte in questa puntata, ne vedremo soltanto alcune, quelle principali, però iniziamo parlando proprio di tre fenomeni che distinguono alcune patologie. L'infiammazione, l'aumento del volume della prostata e la trasformazione neoplastica. Iniziamo a spiegare in che percentuale queste tre sintomi coinvolgono la popolazione maschile. Ringrazio innanzitutto per l'invito e un saluto particolare chiaramente a tutti degli spettatori che immagino in gran parte non siano tecnici, per cui chiaramente prima di arrivare alla risposta della domanda vorrei porre almeno delle condizioni di base, cioè far capire innanzitutto cos'è la prostata. La prostata è una diandola sessuale esogrina che nell'uomo chiaramente ha una funzione molto importante ai fini della fertilità, cioè produce un liquido che entra nella componente del liquido spermatico e dà vitalità e motilità creando l'habitat naturale per lo spermatozoo, quindi indispensabile ai fini della procreazione, affinché lo spermatozoo con il suo movimento lineare penetrante possa quindi penetrare appunto nell'ambito dell'ovulo generando quindi il nuovo gamete. Quindi una ghiandola indispensabile, come dicevo da questo punto di vista, che può essere però nel corso della vita interessata da varie problematiche che vanno da quella più diciamo semplice, tra virgolette, e banale, ma non di minore importanza, proprio ai fini della fertilità, qual è l'infiammazione, quindi alla ipertrofia che rappresenta quindi la crescita della porzione centrale, cioè di quella che trovandosi quindi la ghiandola in una posizione al di sotto della vescica, quindi è lungo il canale uretrale che permette quindi la medicione, causa chiaramente dei disturbi iniziali che poi man mano possono evolvere verso complicanze importanti fino alla insufficienza renale, fino a questo punto quindi alla patologia di cui oggi si parla, quindi maggiormente, che è rappresentata dal tumore, quindi il cancro della prostata, l'adenocarcinoma in primis, che rappresenta sicuramente la patologia quindi che più spaventa l'uomo, anche perché è il primo tumore, quindi seguito, una percentuale del 16%, seguita dal tumore quindi al polmone. Parlando di percentuali, a me non piace tanto di parlare di percentuali, in quanto sul campo praticamente, lavorando, queste percentuali vanno modificandosi di anno in anno. Se facciamo un riferimento quindi alla patologia infiammatoria, è chiaro che dalla età più giovanile, cioè dall'età in cui incomincia lo sviluppo, quindi puberale, quindi dai 14 anni in su, per cui la ghiandola prostatica incomincia con la sua funzionalità e per cui la inadeguatezza del proprio utilizzo può portare ad una condizione di infiammazione, quindi di alterazione del secreto intra-acinale, cioè all'interno delle strutture quindi acinali, che sono delle cellette in cui viene prodotto appunto il liquido, e di conseguenza creare poi delle basi per successivi danni sulla fertilità. E qui è chiaro che è una patologia che si potrebbe riscontrare in chiunque, per cui la percentuale risulterebbe essere molto elevata. D'altronde l'infiammazione può coesistere anche con le altre due patologie. L'ipertrofia prostatica invece viene a determinarsi quando, all'incirca intorno ai 40 anni di età, viene a crearsi un disequilibrio tra la secrezione quindi ormonale, tra estrogeni quindi e testosterone, per cui praticamente viene stimolata la crescita della porzione centrale e transizionale della ghiandola, che poi causerà disturbi minzionali. Questo per cui dai 50 anni in su diciamo che la percentuale è abbastanza quindi elevata, intorno al 50% e tende quindi ad aumentare chiaramente con l'età. Quindi dagli 80 anni in subito è quasi il 90% della popolazione che è sofferente di ipertrofia, ma io direi che si arriva anche tranquillamente al 100%. Per quanto riguarda quindi il cancro, per fortuna le percentuali sono quindi abbastanza diverse, ma sempre comunque rapportate all'età. Esistono dei casi comunque molto rari, parliamo principalmente dell'adenocarcinoma, cioè della componente proprio ghiandolare specifica quindi della prostata, ma esistono anche altre forme quali l'eomiosarcoma, il rabidomiosarcoma, nonché i tumori neuroendocrini che possono interessare qualsiasi età. Al di sotto dei 40 anni, quindi intorno ai 30 anni circa, per fortuna con una percentuale molto molto bassa dello 0,4%, sarebbero più frequenti i leomiosarcomi, i rabidomiosarcomi. Però questa percentuale tende ad aumentare tra i 55 e i 65 anni, raggiungendo anche il 60-70%. Chiaramente oltre gli 80 anni diciamo che con l'invecchiamento cellulare, quindi dell'organismo, la percentuale tende ulteriormente a salire, per cui divenendo probabilmente quasi la regola. Questo poi oggi riusciamo a stabilirlo di più perché con l'allungamento della vita media chiaramente siamo più in grado di diagnosticare patologie neoplastiche. Dottore, il PSA, soprattutto in relazione poi a quest'ultima voce che voi avete spiegato, cioè quella del carcinoma alla prostata, è un valore molto importante? Spieghiamo che cos'è e a che cosa serve. Allora, il PSA, l'antigene prostatico specifico, non è altro che un enzima presente all'interno del liquido prostatico, cioè all'interno della prostata e serve, come dicevamo inizialmente, serve chiaramente a creare quella situazione di habitat per lo spermatozoo, perché permettendo la liquefazione dello sperma dopo che è stato emesso all'esterno, quindi dopo la formazione del coagulo, crea quelle condizioni ambientali liquide, quindi nutritive, per lo spermatozoo, per renderlo chiaramente vitale e di conseguenza attivo alla procreazione. Per cui è un enzima che è presente specificamente nella prostata e che lo si ritrova nel liquido seminale. Ora può accadere che una minima percentuale diffonde attraverso i capillari e penetra quindi in circolo nel sangue, per cui il PSA nel sangue è quello che viene comunemente dosato con un banale prelievo di sangue. La sua importanza, l'importanza sicuramente c'è, perché se aumenta il PSA nel sangue significa che c'è un evento distruttivo a carico della struttura della prostata, chiaramente. Evento distruttivo che non deve essere però necessariamente il cancro. Può essere a maggior ragione una prostatite, un'infiammazione acuta che lentamente distrugge un bel po' di parenchima, o anche l'ipertrofia prostatica che leggermente nel tempo, evolvendo lentamente, può portare quindi alla distruzione di questo. E chiaramente è un indice, anzi nel momento in cui è molto elevato, è più facile che sia un indice di infiammazione, soprattutto se l'aumento è brusco e immediato, perché a quel punto nel cancro la lentezza del processo evolutivo neoplastico porterebbe chiaramente ad avere un leggero aumento del PSA, quindi molto più prolungato nel tempo, quindi mai immediato. È chiaro che però rappresenta un campanello d'allarme, ma non da solo, sempre in associazione alla visita, l'esplorazione digitorettale, per fortuna nell'uomo la prostata può essere esplorata, perché trovandosi a 5 cm dall'ano, anteriormente al retto, può essere esplorata con il dito indice, anche se noi andiamo a palpare la porzione quindi periferica. Però la consistenza, che in genere è fibroelastica, della ghiandola, può subito rappresentare un campanello d'allarme nel momento in cui abbiamo un aumento di questa consistenza fino alla consistenza pitrea, dura, proprio come una pietra, del tumore stesso. Per cui è chiaro che il PSA, un piccolo tumore capsulato, non porterà immediatamente ad un aumento del PSA, anzi potrebbe essere anche un PSA basso, quindi che ci falsa il comportamento. Una infiammazione acuta, oppure addirittura un rapporto sessuale avuto di recente, o anche l'esplorazione rettale, che va a manomettere l'architettura ghiandolare, fa aumentare nell'immediato il PSA. Questi sono principi da tenere presente. Il PSA a sua volta poi, il totale, si divide in circolo, in due forme, che sono la forma combinata, quindi ad una proteina, e la forma libera che aumenta, soprattutto in caso di ipertrofia prostatica benigna. Dottore Maggio, allora vediamo questa scheda, ascoltiamola insieme e poi la commentiamo. Le malattie prostatiche sono estremamente comuni, soprattutto con l'avanzare dell'età. Per esempio, la prostata può aumentare di dimensioni, provocando disturbi della minzione, infiammarsi causando fastidio e dolore, o ancora essere colpita da tumori benigni o maligni. Queste tre condizioni, cioè l'aumento di volume, l'infiammazione e la trasformazione neoplastica, permettono di distinguere altrettante categorie di malattie prostatiche, che nell'ordine vengono chiamate ipertrofia prostatica benigna, quando c'è un ingrossamento, prostatite quando c'è un'infiammazione, e cancro della prostata quando c'è un tumore maligno. In tutti e tre i casi è necessaria una diagnosi corretta, e soprattutto tempestiva, conseguenza della giusta prevenzione. Ecco dottore, allora parliamo della prevenzione, affrontiamo questo argomento, per molti uomini è ancora un tabù da sfatare, spesso si ricorre alla visita, la classica visita urologica, soltanto quando si hanno dei fastidi magari molto accentuati e protratti per tanto tempo. Sì, in effetti dobbiamo dire che nell'arco di breve tempo, perché da una ventina di anni a questa parte, si è un po' iniziato a parlare di più di patologia prostatica e di patologia dell'apparato genitale maschile. Cioè si viene, come detto giustamente, quindi è nel filmato, e da lei si viene fuori da un periodo in cui l'uomo aveva il suo tabù. Cioè l'uomo, più che un tabù vero e proprio, aveva una sua presunzione di non poter essere malato, cioè la fuoriuscita del liquido seminale faceva sì che l'uomo non avesse problemi di alcun genere e tipo. Chiaramente con l'avanzare dell'età la minzione andava progressivamente calando e ciò rappresentava un evento comune, quindi a tutti, parlando infatti con qualche vecchietto, giustamente dice sì, non posso fare più la pipì come la facevo quando ero giovane, quando giocavamo a lanciarla vicino al muro, adesso è più cadente, ma tutto rientra in una normalità. Chiaramente l'evoluzione, il progresso ci ha portato ad avere disturbi importanti ed in particolare sulla fertilità. Ecco perché oggi tante giovani, tra virgolette, coppie, giovani perché non sono più le coppie che arrivano al matrimonio come in altri tempi in reale giovane età, ma parliamo di giovani coppie, insomma i 35 anni, i 40 anni, se non addirittura ultra, e quindi chiaramente le problematiche di fertilità tendono ad aumentare. Un tempo la colpa era solo della donna quando non si riusciva ad avere figli, oggi si è capito che al 50% ne è responsabile anche l'uomo, quindi in tanti hanno dovuto necessariamente convincersi della loro possibile potenzialità, quindi patogena, e quindi sottoporsi a controlli. I mass media hanno concentrato enormemente l'attenzione sulla patologia prostatica, in particolare sul cancro, perché con l'allungamento della vita un tempo erano frequenti le cosiddetti morti improvvise nei 40 anni, 45 anni, 50 anni, per cui non si aveva neppure la possibilità di poter avere disturbi prostatici evidentemente. Oggi quindi con l'allungamento della vita e quindi con il miglioramento, il progresso delle indagini sia strumentali sia analitiche e altro sulla patologia prostatica ci hanno portato ad individuare quindi anche il tumore prostatico in età pure più basse, quindi rispetto a quelle di un tempo. La prevenzione è sicuramente importantissima, è un elemento indispensabile, però tengo a precisare e a dire che comunque non bisogna abusarne, perché soprattutto nel cancro della prostata esistono delle forme di cancro intraprostatico che probabilmente resterebbe all'interno della ghiandola senza mai venire fuori per decenni e decenni o senza creare addirittura patologia che ci impongono chiaramente la necessità di evitare di sottoporre un soggetto giovane ad una terapia che possa essere chirurgica o medica ma che vada comunque ad alterare la qualità di vita, perché teniamo presente che un paziente con il cancro della prostata comunque trattato può divenire incontinente e diviene quasi certamente impotente. Per cui una cosa è avere delle complicanze ad un'età avanzata, un'altra cosa è quando ci confrontiamo con persone molto giovani. Infatti l'adenocarcinoma che noi andiamo a riscontrare che poi è la forma quindi più frequente presenta vari gradi che vengono analizzati con una scala glison e quindi noi siamo tenuti ad orientarci sul tipo di tumore, qualora venga fuori come tale, e sulla sua potenziale evoluzione prima di stabilire che tipo di programma utilizzare per quel tipo di paziente. È chiaro perciò che è importante lo screening preventivo, cioè è importante quindi il PSA, l'esplorazione digitorettale e l'associazione di una ecografia transrettale che porti chiaramente a valutare se sia necessario o meno fare una biopsia prostatica. Però è anche importante dire che la biopsia prostatica va fatta, va ripetuta solo in caso di necessità, cioè non bisogna andare necessariamente alla ricerca del cancro, perché probabilmente se andassimo in ognuno di noi troveremo sicuramente qualche forma che potrebbe restare misconosciuta quindi fino alla nostra morte, quindi legata chiaramente alla normale evoluzione quindi della nostra vita. Allora bisogna andarci con i piedi di piombo, così come è importante la prevenzione anche nei giovani, perché il problema non è solo quello del cancro della prostata, il problema è quello della procreazione, quindi fare uno screening andrologico in una fase puberale, renderci conto che lo sviluppo dei testicoli, della ghiandola prostatica, avvenga naturalmente e oggi purtroppo la fertilità nell'uomo sta andando calando. Questa è colpa dell'inquinamento atmosferico, dell'inquinamento alimentare, di tanti altri fattori, quale l'aumento delle temperature, dello smog, per cui se facciamo riferimento al passato, gli spermiogrammi avevano un numero di spermatozoi che era notevolmente superiore a quello attuale, cioè siamo passati nell'arco di 30 anni dai 2-300 milioni per millilito di spermatozoi richiesti a 10-20 milioni oggi sufficienti per poter avere una gravidanza. Ecco dottore, allora ascoltiamo insieme questa scheda in cui parleremo proprio di infertilità maschile e così poi continuiamo con l'argomento. Statistiche confermano che esiste una correlazione fra la fertilità e l'inquinamento ambientale, rilevando che negli uomini metropolitani la percentuale delle anomalie nel liquido seminale aumenta del 15%. Lo smog a cui siamo esposti giornalmente, infatti, è carico di sostanze tossiche per l'organismo che funzionando come interferenti endocrini provoca l'infertilità. Ne sono esempi su tutti le diossine o iperflurati presenti in larga misura in insetticidi e pesticidi, vernici, detersivi e altri prodotti di largo consumo insieme a piombo, carbonio e polveri sottili. L'inquinamento, dunque, interferisce con la salute cellulare e l'equilibrio ormonale e provoca un accumulo di sostanze nocive nei testicoli che influisce con la qualità e la quantità degli spermatozoi. Dottore, dunque, inquinamento, ma anche cattive abitudini alimentari possono influire sulla capacità riproduttiva dell'uomo, ma ci sono anche fenomeni come ad esempio il varicocele oppure l'idrocele che potrebbero contribuire spesso sono asintomatici e dunque i ragazzi, soprattutto, potrebbero convivere per anni con questo tipo di patologia senza saperlo mai per poi arrivare ad un'infertilità da cui non si può più guarire. Certo. Chiaramente le due cose vanno distinte perché il varicocele in primis è una patologia che esiste da quando esiste l'uomo, per cui il problema del varicocele, cioè della varicosità delle vene del plesso pampiniforme, cioè delle vene, quindi del genitale, che hanno la funzione di trasportare il sangue tossico dal testicolo verso il cuore per essere riossigenato e riutilizzato nelle arterie, da sempre hanno creato una condizione di tossicità a carico del testicolo e quindi di conseguenza una potenziale subfertilità. Il varicocele, come ho definito precedentemente, quindi ha una varicosità che esiste di grado diverso, però un tempo non esistendo tutto questo smog, l'alimentazione era più naturale, quindi c'erano meno sostanze inquinanti, anche se si è fatto riferimento a uso di pesticidi ed altro, però chiaramente insetticidi, questi per fortuna erano e sono ad utilizzo soltanto di alcune categorie, gli agricoltori in particolare. Nel tempo vanno un po' diminuendo, quindi sbanendo nelle componenti alimentari seppur presenti. Per cui sposandoci in un'età ben più giovane, in molti casi il varicocele non aveva ancora recato quei danni tali da poter avere una difficoltà durante la procreazione. Oggi, se andiamo a sommare tutti questi fattori, varicocele, inquinamento ambientale, smog, sostanze tossiche che si accumulano nell'organismo e di conseguenza anche nel liquido seminale, per cui lo spermatozoo risulta anch'esso essere intossicato e quindi non riesce ad avere più quella vitalità e quella motilità necessaria, assommate a disoccupazione, difficoltà quindi posti di lavoro, difficoltà di crearsi una famiglia, matrimonio in ritardo, chiaramente sono tutti fattori che incidono negativamente sulla procreazione. Probabilmente se si continua di questo passo, in un periodo di tempo neppure molto lungo, tra una cinquantina d'anni, sarà proprio difficilissimo se non impossibile avere una procreazione e quindi questo sarà l'elemento che porterà alla distruzione della vita. Mi auguro di no, mi auguro di dire un'assurdità, però insomma i presupposti pare a questo punto ci siano. Dottore, da che punto allora bisognerebbe iniziare a fare i controlli? Ma il controllo siccome il varicocele è una patologia che viene fuori durante lo sviluppo buberale, cioè quando con la crescita del testicolo c'è il sovraccarico arterioso e quindi di conseguenza il drenaggio venoso, il varicocele, le vene del testicolo di sinistra, il plesso bambiniforme e vedremo perché a sinistra, messe sotto carico possono chiaramente sfiancarsi, perdere la continenza valvonare e divenire quindi varicosa. È più frequente a sinistra perché è per una condizione anatomica, perché queste vene del plesso si riuniscono nella spermatica che poi va a confinare in una vena piccolina che è quella renale, a destra invece confluisce in una vena più grossa che la vena cava e quindi ha una minor tendenza quindi a varicosare. Però chiaramente in alcuni casi quando il varicocele è molto grosso, molto importante, supera addirittura il terzo grado quindi a sinistra, nel quarto grado si associa anche una ipotrofia, cioè un testicolo che non è riuscito a crescere adeguatamente si può avere un varicocele quindi bilaterale. A destra, solitario, dovrebbe farci sospettare problemi diversi quindi chiaramente allora tenuta presente questa condizione. Chiaramente quindi il varicocele è una patologia che oggi preventivamente andrebbe corretta. Dico andrebbe perché? Perché nel corso degli anni il varicocele inizialmente non era affatto preso in considerazione come potenziale causa di ipofertilità o di infertilità perché in tanti casi uomini con varicocele procreavano normalmente. Successivamente con lo sviluppo dell'andrologia negli anni 80 e 90 si è cominciato a notare che c'erano comunque alterazioni del liquido seminale che potevano compromettere la fertilità e quindi si operava in ogni caso. Oggi non sempre siccome il varicocele non sempre arreca danni al liquido seminale bisognerebbe confrontarlo con questo per cui però se vogliamo ragionare in un'ottica di prevenzione è chiaro che nel momento in cui noi individuiamo un varicocele importante o anche minimo perché poi non sa anche il varicocele minimo a volte crea danni importanti sulla fertilità preventivamente in un giovane avendo delle prospettive matrimoniali molto lunghe allora dovremmo intervenire risolvere il problema per non porcelo poi in un momento in cui potrebbe creare danni irreparabili Dottore allora che sia varicocele che sia idrocele che sia una semplice infiammazione prostatica o un carcinoma della ghiandola l'importante la parola d'ordine è la prevenzione proprio questa settimana lei è impegnato in uno screening insieme ad altri colleghi proprio per portare avanti questo discorso sì in effetti più volte sono stato invitato dall'AMOS che è un'associazione che è nata soprattutto per la patologia per le patologie del seno e che poi hanno voluto estendere il loro cambio di azione giusto appunto nell'ambito della prevenzione sabato e domenica saremmo impegnati a Solofra in una scolaresca per visite preventive soprattutto da un punto di vista della fertilità domenica ad Avellino quindi presso la chiesa di Rione Mazzini invece per patologie un po' più ampie che riguardino chiaramente anche la persona quindi più anziana quindi o l'ipertrofia o la diagnosi precoce chiaramente del carcinomo quindi cerchiamo di renderci utile in questo modo sempre come dicevo in precedenza rispettando il corpo umano cioè all'individuazione di una patologia che potrebbe essere responsabile di un danno vero e proprio senza che invece preventivamente esagerando andiamo poi ad arrecarne noi danni non presenti Dottore il tempo a nostra disposizione è terminato io la ringrazio ovviamente per la sua partecipazione ringrazio i nostri telespettatori e vi do appuntamento alla prossima settimana con Dica 33 e ideally a a a a a a a a a Grazie per la visione!